È stato respinto senza dare motivazioni, secondo l'uso del Pirellone, l'ordine del giorno numero 16 dell'ultimo Consiglio regionale, dal titolo Azioni di contrasto all'inquinamento atmosferico e aggiornamento del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria. Mentre sono ancora alti i livelli di ozono, spesso con superamenti del valore obiettivo di 120 microgrammi per metro cubo registrati dalla centralina ARPA di Via Fatebene Fratelli a Cremona e dati massimi che sfiorano la soglia d'allerta di 180 microgrammi, le associazioni ambientaliste come i Cittadini per l'aria e altre già si muovono per chiedere misure più coraggiose alla regione Lombardia visti i deboli risultati del protocollo antismog. L'ordine del giorno presentato da Nicolò Carretta e da Elisabetta Strada della lista Lombardi Civici Europeisti ha chiesto di uscire dalla logica del provvedimento stagionale per attivare, come richiesto anche dalle associazioni cremonesi, misure permanenti a partire dalle limitazioni ai veicoli diesel Euro 3 ed Euro 4, con l'obiettivo ultimo di vietare del tutto la circolazione dei veicoli sia a benzina che a gasolio a partire dal 2025. Occorrerebbe poi incrementare il trasporto pubblico locale e regionale, il trasporto elettrico e sostenibile delle merci e la rete delle ciclabili, in modo che entro il 2025 nelle aree urbane come Cremona, che resta area critica regionale per l'inquinamento atmosferico, circolino solo mezzi ad alimentazione elettrica o a metano, mentre per i collegamenti extraurbani vengono utilizzati mezzi a elettrico, benzina o gasolio, ma a basse emissioni. Ci vuole dunque una rivoluzione che la regione può incoraggiare, dando incentivi ai privati, per la riqualificazione energetica degli edifici e dei mezzi di trasporto e anche alle aziende agricole, in modo che usino tecniche a minore o basso impatto ambientale. A questo scopo servirebbe una vasta valutazione ambientale strategica che renda possibili misure più incisive, con un bilancio regionale che preveda investimenti più cospicui. Altrimenti, concludono i due consiglieri regionali, la spesa sanitaria continuerà a risentire delle malattie croniche peggiorate dallo smog, per non parlare dei decessi prematuri. Secondo uno studio ministeriale, poi ogni settimana in provincia di Cremona si registrano statisticamente almeno due decessi prematuri a causa dell'inquinamento, mentre le malattie tumorali, secondo i dati della TS Valpadana, in vari casi superano la media regionale. Il presidente regionale Attilia Fontana e la sua giunta però hanno preferito non assumere impegni di questo tenore.